Fratelli rossonieri amici rivali di youtube buongiorno 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 e buon sabato a tutti amici spero che mi scusiate se non è che ho tutta questa grandissima voglia di cantarvi il da che sabato da che sabato perché di da che sabato non è che ci sia molto da raccontare a livello calcistico per lo meno dunque dunque tanti argomenti di oggi primo argomento allora ci abbiamo tre argomenti li andiamo ad analizzare prima di iniziare naturalmente solita sponsorizzazione per le magliette di che calcio ragazzi 200 euro vi regalan 4 magliette 100 euro vi regalan 2 magliette 159 euro 3 magliette 59 euro 1 maglietta naturalmente c'è il buono sconto alex benissimo ragazzi per i capelli mi contattate in privato ragazzi si sono i miei oppure da un po' quando mi chiedete si sono i tuoi ti rispondo antonio conto e oggi ringrazio e saluto anche il mio amico nicola come ragazzi saluto anche un gobo visto che parliamo di juve per la donazione di ieri il mio amico nello astride si chiama su sempre che mi segue durante le mie dirette oggi il programma di oggi video stamattina un altro video oggi nel pomeriggio e naturalmente la solita live alle ore 21 non mancate partiamo con gli argomenti allora ieri la juve pareggia di nuovo io cioè noi dovremmo essere disperati ma c'è chi sta peggio di noi perché la juve ragazzi sono dieci partite che non vince e dietro a sua origine mi stagione di nicola e adesso per esempio ve lo vado a dire ve lo vado a dire cosa mi ha scritto sono dieci partite che non vince noi ci lamentiamo ma c'è gente che sta peggio di noi c'è gente che sta molto peggio di noi perché non so allegri come fanno a tenerlo lì e meno male che lo tengono cioè speriamo che li rinnovano pure poi naturalmente la juve da quanta di ciò per le cominci la prossima mi sembra che c'è contro di noi perfetto la serie sua no non la prossima fra due parti mi sembra che contro di noi tranquilli tifosi gobbi che tanto noi quando giochiamo contro i morti guarda pareggirete o perderete a terra giocare anche la prossima per poi vincere contro di noi perché noi se giochiamo contro i morti abbiamo un potere incredibile li risuscitiamo quanti giù metti adesso la juve perché diventiamo la barzelletta totale di tutto e di più vedrete che adesso la juve non vincerà neanche la prossima e tornerà a vincere contro di noi perché io mi sento che le prossime due partite non le vinciamo anzi già tanto che le pareggiamo ok sto parlando del derby per per almeno salvare la faccia che non salvaremo la faccia perché ormai la situazione è fuori controllo vedrete che andrà così e vedrete che faremo risuscitare i morti io le direi francamente la partite non l'ho vista più di tanto visto l'autoretta del caldo arrivavo sono così un difensore possono capitare e comunque ranieri fa un altro punto un altro passettino per per conquistare la sua salvezza sapete che io sono pro ranieri tifo ranieri un altro passettino in qua verso la salvezza grande claudio siamo tutti con te io doveva ranieri io tifo la scuola di ranieri perché mi è un grandissimo signore mi è troppo simpatico nicola oggi stamattina mi ha mandato un messaggio e mi ha detto ieri mia moglie mi ha detto ascolta dobbiamo prenotare dobbiamo andiamo in piscina domani dai su muoviti prenota e lui cosa gli ha risposto antonio conte possiamo andarsi a fare un giro domani un giro in centro e lui cos'è che ha risposto antonio conte giusto possiamo rispondere oggi antonio conte qualsiasi domanda vi fanno voi rispondete antonio conte benissimo questo era il primo argomento che diciamo che quello meno piccante perché adesso ce ne sono due che sono piccanti andiamo con ordine ma ti dite andiamo con ordine ho sentito ho visto mi ha mandato mio amico robin mack mi ha mandato l'intervista rilasciata da marcel desailles francese amico comunque grandissimo amico di un compagno di squadra con nazionale grandissimo amico di un nostro giocatore che io non sto contestando lui sto contestando lì più al commerito difeso con la squadra io ti devo contestare alcune cose che sono la luce del sole anche con lo santo con gli amici di osservati saluto ho avuto ragione loro dicevano assolutamente non cambiamo con giro perché dovevo anche così il tuo amico mi ergo fare no assolutamente no non dobbiamo vinta la squadra no non è così ragazzi come avevo avevo ragione io vi leggo le sue parole allora ex milan massacra pioli come si fa a non scherarci così dopo le ultime prestazioni come ha sottolineato il collega spagnolo guti pochi giorni fa girù rompe il lavoro dei compagni ciucuzeo grande giocata alla messa elimina tre romani e gli offre caviale ma lui la manda in curva a milano si innamorano facilmente di chi segna nel derby girù può anche fare un gol a partita a milano si innamorano facilmente di chi segna nel derby girù può anche fare un autogol a partita diranno grande olli autogol scusatemi pioli non hai il coraggio di lasciarlo in panchina caro pioli se le tue emozioni vanno oltre non dovresti allenare il milan amo questo club dove ho giocato rifiuto la gestione emotiva dobbiamo mettere chi sta bene come avevo detto io deve giocare chi sta bene gioca in facilmente con lui il milan gioca in 10 perché non si muove io dico con girù l'avversario gioca in 12 con un difensore in più pensate come cazzo l'ha massacrato gente che comunque penso che ne capisce di spazio pioli non hai il coraggio di lasciarlo in panchina caro per le tue emozioni vanno oltre non dovresti allenare il milan amo scusate avevo già detto dobbiamo mettere chi sta bene abbiamo visto l'ingresso di ciucuzzeo cosa ha generato molto in gamba perché ogni volta pioli rompe la sua continuità a madrid ancelotti è un solo attaccante giuselu visto che è poco decisivo il real mette davanti viniusius e rodrigo come dice ancelotti può sostituire l'assenza del 9 si basa su movimenti dei due brasiliani per creare presenza in area cosa ho detto io l'attaccante esce fuori per mandare dentro i laterali oppure l'op2c che è quello che dovrebbe giocare intorno a punta o comunque cross dal fondo non da tre quarti con l'inserimento dei centrocampisti tutto quello che ho detto di settimana tutto quello che ho detto io cazzo metti il dittino perfetto poi tatatata andiamo avanti che lunga andiamo avanti che molto lunga l'intervista c'è molto lunga è giusta lunghezza giusta pioli deve usare meglio la testa adattarsi a giocare senza 9 pure imparare un po' dai grandi allenatori e smettere di gestire il milan come un club normale di metà classifica siamo il milan se la roma passa è imperdonabile sono dietro al milan come rose classifica ieri grosso errore di girù e grosso errore di chi continua a scheriarlo nonostante la sua forma non brillante a quanto pare con pioli non è che è in forma che gioca ciucuzeo e ocafor per meritarsi il posto devono segnare tre gol partendo dalla panchina quando la partita è già compromessa questa intervista come sto accorgendo adesso è stata fatta naturalmente dopo l'andata del milan cosa è successo nel ritorno ha fatto gli stessi identici errori che ha fatto l'andata ha fatto gli stessi identici errori non lo dico io lo dico non si può praticamente anche loro avevano già avevano già detto il futuro praticamente tutto quello che ho detto io il milan in europa non l'ha mai perso con un'italiana grazie a pioli siamo già tre sconfitte in due partite che praticamente ci mettono anche quattro in due partite perché ci mettono anche quella di ritorno due contro l'interno una contro la roma tra cui due in casa pioli rovina ocafori ciucuzeo due ragazzi che possono dare molto al milan di cara su due sport ciucuzeo caffò per militarsi il posto devo segnare tre gol partendo dalla panchina quando la perte già compromessa lo stesso discorso che aggiungo io grazie lo stesso discorso che aggiungo io ha fatto su e su su adli ci ha messo un anno e mezzo per far giocare terracciano che molto meglio ve lo dico io e qua ci metto la faccia molto meglio sia di di florenzi che di calabria per una trattenuta in area di rigore ingenuità col bologna costata due punti cari e amari però non addirittura da punirlo con due mesi che ha giocato sei minuti cosa incredibile un ragazzo di 21 anni forte fisicamente una bestia una gran corsa e tutto da potenziare sicuramente ma deve essere che con l'alena che lo potenzia oggi sono contro pioli ve lo dico ieri gli ho spezzato un ascio a suo favore perché i giocatori per me rimangono dei vermi però comunque sia la gestione è imperdonabile ripeto questa intervista qua di marcel deseguti è stata fatta dopo roma milan e loro già vanno detto se esce con la roma è imperdonabile tac oltre uscita in 10 contro 11 quindi doppiamente comunque valgono le sue responsabilità su quello niente dubbi che poi giocatori anche loro secondo me hanno capito che lui fa giocare che è simpatico forse potrebbe essere anche questa una chiave cruciale comunque anche perché giocare con olli davanti ha ragione di si distrugge il lavoro che fanno gli altri perché non tiene più un pallone se prima perlomeno teneva un pallone la buttava dentro adesso oltre che non segna ti distrugge il gioco che facciamo non si fidano a dargliela sui piedi ma non mi fiderei pure io che poi non ci muoviamo anche questo qua cioè sembra che veramente questo qua non abbia il coraggio di togliere i propri amici una cosa incredibile l'ha fatto con chi era addirittura l'è rimato contro un allenatore di un allenatore di che che una squadra rispetta non li va a rimar contro così non si fa rispettare e poi passiamo al terzo argomento cioè io adesso ti faccio ridere io adesso devo accettare per l'anno prossimo per l'anno prossimo un allenatore cioè devo 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 accettare che ci siano 3 tv spero che sia una una grandissima balla dei giornali un allenatore che in spagna soprannominano elcagon cioè io devo sentire accostato al milan un allenatore che in spagna è soprannominato elcagon cioè siamo il milan o siamo l'udinese io mi chiedo io mi chiedo veramente sì io devo ancora continuare i giornali su di noi ne dicono di tutti i colori siamo sempre bersagliati dalla testata giornalistica per l'amor di dio ma se devo accettare anche questo veramente io tolgo anche l'abbonamento di da zona io mi auguro che non sia vero perché lo ripetiamo oggi sabato 20 aprile ogni domanda che viene posta la risposta è antonio conte punto non rispondete non dovete dire neanche qualcos'altro in più antonio conte o conte antonio mi va bene tutte e due ok benissimo nicola il mio amico andato a dormire in tenda dopo che le ha risposto così dopo la domanda sulla piscina e sul centro e quindi comunque sia rischiamo il rischio come si suol dire e il rischio vale la candela come si suol dire quindi bene detto questo rispondetemi qua sotto cosa ne pensate del di allegri ancora ancora saldo al suo posto sempre se stamattina l'hanno licenziato cosa ne pensate di interviste di guti di desei che avevano già predetto praticamente il futuro e cosa vi pensate del nostro amico il nostro nuovo idolo è cagon ciao a tutti ragazzi ci sentiamo dopo per il video pomeridiano e dopo stasera per la live ore 21 sempre presenti ciao a tutti